Grazie a tutti Tira morbido, l'errore, il ribalzo, netta superiorità, 4 contro 1 per il contropiede in regge media Inchiola la spiacciata, Seelix per il 52-48 Per Della Valle vicino alla palla persa la Grissinbon, poi Della Valle batte Peric Ma la stoppata da parte di Thomas Ress lo cancella Si fa largo, riapre ancora il pallone per Kaukenas che sbaglia ma senza fin di Polonara Dormita ancora e a parte dell'antica Sorvana Reier Per Kaukenas che perde il pallone, poi punta a terra Ress Gli altri vi lasciano proseguire la spiacciata di The Vidas, Lundis, ancora terra Ress